Il cane che si morde la coda. Quando ti chiedi da dove vieni, che cosa stai a fare qui, dove vai, la tua mente si mette sempre davanti perché vuole rispondere lei alle domande. Ma nella storia della condizione umana questo è il cane che si morde la coda perché la mente non può spiegare se stessa. Chi lo può fare è la tua coscienza quando ha consumato la mente che è l'io che è la personalità quando non sei più uomo.